Il nostro canale è www.mesmerism.info Il nostro canale è www.mesmerism.info Perché abbiamo vinto un concorso, no, perché abbiamo partecipato a un concorso Ecco, abbiamo partecipato al cine festival Eh, a Torino, perché ci trova a Torino Esatto, quindi stiamo qua per forza per vingere questo cine festival La stella La stella La firma dell'architetto Guarino Guarini Che era monaco E contemporaneamente astrologo A conferma del fatto che l'uomo di scienza È anche un uomo di fede E l'uomo di fede è anche un uomo di scienza No, è una riprova che una volta Studiavano solo i preti o i ricchi Anche Guarini che ha architettato appunto Questo complesso di cui vedete La parte più antica Mattoncini La parte più nuova Ottocentesca Il mio rosso Che è già terracotta Era monaco E anche astrologo Grazie a tutti Grazie a tutti Stella Bella e travolgente La neve La neve La neve Grazie a tutti Grazie a tutti E Grazie a tutti.